Allora, vediamo un po' se parte Non so più che pesci pigliare perché non so che cazzo stia succedendo No, è partito, ok È partito? Credo Live Non lo so È venuto fuori un qualche cosa ma non capisco Provo a ricaricare la pagina Provo a ricaricare la pagina ma non va Ah, bene Sto ancora in buffer Aspetta, aspetta Eccoci, eccoci, eccoci Ci siamo? Sì Ci siamo È partito, cazzarola Oh, chissà che cazzo è successo C'era un pochino di Rifresciate la pagina se ci fossero problemi Ma dovrebbe essere partito tutto Non ho capito cosa fosse successo Assolutamente Ma anche perché ci sono dei seri problemi Vedi che mi sta dicendo che c'è una persona che ci sta guardando In realtà In chat C'è un po' di più Non lo so Twitch fa i cazzi suoi Veramente Allora È in ritardo Sì, sì Insieme a A Elenteer Insieme a Elenteer è in ritardo tutto Vedi Manca il pazzo Tutto quando arriva Elenteer Sicuramente Se poi Arsan mi dice che è partita Vuol dire che ci credo veramente Sì, è partita Ti confermo Ok Perfetto Benissimo La chat è in ritardo Dicono Ah, ok Eh, ma ragazzi Questo purtroppo è un problemino di Twitch Non c'entra con Noi Purtroppo E meno male che Twitch doveva essere ottimizzato Per fare le live E vabbè Comunque sia Adesso dovremmo aspettare Dieci minuti Diciamo così Poco meno L'arrivo un attimo di Elenteer Se no partiremo Intanto senza di lui Perché attualmente Per lavoro Lo hanno mandato Non so dove Esattamente Ma comunque all'estero In un luogo dimenticato da Dio Sì, sicuramente E quindi ci stava dicendo Che sarebbe arrivato Con un attimo di ritardo Nessun problema L'importante È che ci siamo Allora Intanto Ripartiamo Salve a tutti Mister Delrick Qui Abbiamo anche La buona Ivy Ciao E abbiamo Qui Alla mia Alla mia destra No in realtà Alla mia destra Ma alla vostra sinistra Il buon Game Master Ciao a tutti ragazzi Buonasera E intanto anche Alla mia sinistra E alla vostra destra In realtà Il buon Titus Che anche lui è in trasferta Per lavoro Tra l'altro Bolzano è una bellissima città Ok Ecco lui è Bolzano Ringraziamo gli hotel Che permettono di avere il wifi Quindi riusciamo in ogni caso A trovarci lo stesso Oh che bello ragazzi Arson suggerisce che Edentir può essere sostituito Dalla buca Eventualmente C'è un solo problema Come idea mi piace C'è un solo problema Che la buca probabilmente Vi farebbe il paiolo a striscia A tutti quanti E ho paura anch'io Sì attualmente credo che I primi livelli Credo sia sicuramente Più potenti di noi Qualcuno ti sta facendo Una domanda amore Allora Che gioco consiglie Per avvicinarsi Al gioco di ruolo Allora Creeperian Io ti consiglierei Vivamente Proprio Dungeon World Per un semplice motivo È piuttosto Scarno di regole Dungeon World Per cui Ti permette Di avvicinarti Al gioco di ruolo Senza doverti imparare 40.000 nozioni Diverse Confonderti E basta E anzi Forse Allontanarti Da quella Che potrebbe diventare Invece una passione Siccome Dungeon World Invece Dà la possibilità Di Puntare molto di più All'impersonificazione All'interpretazione E Di conseguenza Penso anche Alle risate Al divertimento Allo stare in compagnia Con altre persone Io credo che possa essere Il gioco migliore In assoluto Valutate questo Che bene o male Tutti noi Tutti noi Che siamo Un po' vetusti Ok Parla per te Tu zitto Beh effettivamente Abbiamo cominciato Abbiamo cominciato Pressoché quasi tutti A giocare con Dungeons and Dragons Penso No? Con la famosa Scatola rossa Che poi C'è stata la scatola blu L'Azzurra Advanced D&D Ecco tu hai cominciato Con l'Advanced Noi abbiamo cominciato Con il Dungeons and Dragons Vero e proprio Che al tempo Era un manualetto Veramente sottile Piccolino Poche regole Anche lì Tutto sommato Per cui Partire così È stato anche Relativamente semplice Poi è arrivato L'Advanced D&D Che era un libro Venduto all'interno Di una custodia Praticamente era Un tomo Di queste dimensioni Ok Le regole sono diventate Già molto più complesse Però dopo che uno È partito Diciamo così Con le regole iniziali Un po' più complesse Sull'Advanced Beh L'Advanced Era decisamente Più complesso Ok Poi è arrivata La versione 3 Di Dangerous and Dragon Poi la 3.5 Che ad oggi È ancora la più giocata Penso Poi è uscita La 4 Ma noi facciamo finta Di nulla Come se non fosse Mai uscito niente Quale 4? Quale 4? Cosa è la 4? Cosa sto dicendo? È una merda Per una misura Fondamentalmente È una merda Però in contemporanea Alla quarta edizione Di Dangerous and Dragon È uscito anche Pathfinder Di cui ho già fatto Anche un tutorial Che in realtà Sarebbe una sorta Di Digest and Dragon 3.5.5 In un certo senso Cioè sarebbe effettivamente Il vero D&D Quarta edizione Perché riprende Molto più da vicino Le regole di D&D Come dovrebbero essere Sono dei libroni molto grandi Ci sono tante regole Vero Ma la cosa interessante Di Pathfinder Scusa se intervengo Un secondo Mister È che La cosa bella È che Pathfinder È sotto OGL Quindi è sotto Open Game License Quindi Vi permette Di Se masticate Anche un minimo Di inglese Diciamo Un livello Proprio elementare Di inglese Tutte le informazioni Relative A Pathfinder Sono reperibili Gratuitamente In rete Basta andare sul sito Basta che scriviate Pathfinder RPG Su Google Vi mandano direttamente Al sito del produttore E lì c'è L'intero Insieme Dei manuali A completa disposizione Di tutti Ecco se no Io nei miei tutorial Ho messo Nei link Praticamente Ho messo Un link Che è del Quinto clone Si chiama Che è un sito Che ha Chiuso i manuali principali Quelli del giocatore Del master E dei mostri In italiano Quindi è totalmente Gratuito Voglio dire Si può tranquillamente Vedere e leggere Però vi assicuro Ecco È veramente tanta roba E secondo me Per avvicinarsi Non è la cosa più semplice Anche perché C'è veramente una diatriba Per quanto riguarda I giochi di ruolo Perché alcuni Preferiscono Sacrificare Diciamo L'interpretazione Se vogliamo E la velocità Di un gioco di ruolo Per avere delle regole Molto precise Di modo tale Da essere molto strategici Da poter pensare bene I movimenti Usare le miniature Mi muovo di un metro e mezzo Poi riesco a fare questa mossa Poi quest'altra Eccetera eccetera E via così Quindi in maniera Molto precisa Molto dettagliata Il peso Che mi porto dietro Quanto mi ingombra Tutte queste cose qui Probabilmente Noi che siamo arrivati A un certo punto Che abbiamo giocato Questi giochi Preferiamo di più In un certo senso Un gioco Che sia decisamente Più snello A livello di regole Quindi Che se vogliamo Sacrifichi Un pochino di precisione A livello di regolamento A favore però Del gioco Dell'avventura Dell'interpretazione Tra i personaggi Del Così Diciamo Di queste sfumature Che si possono dare Che secondo me Rendono un gioco Effettivamente divertente Ecco Poi ognuno La vede in maniera diversa Cioè adesso Io non so se ci sono Ingegneri Online Però tendenzialmente Un ingegnere Preferisce No la regola Perché la regola Dice questo E quindi Cioè secondo me La regola deve essere Sempre comunque Secondaria Al divertimento All'andamento Dell'avventura All'andamento del gioco Insomma ecco Quindi È un discorso comunque Di Di modi Di vedere le cose Poi vediamo Ah sì ecco Arsan Anche si è avvicinato Abbastanza No A cos'è A Pathfinder Ti sei avvicinato Giusto Arsan Il ritardo Adesso si è un attimo In ritardo Ma poi Adesso probabilmente Starà anche scrivendo In realtà Perché lui è Solamente Tramite scrittura Non mi ricordo Se Con la 3.5 Che lui aveva cominciato A darci un'occhiata O a Pathfinder È un gioco divertente Vogliare che non ci sono Abbastanza regole Vabbè Ognuno la può vedere Anche in questo modo Aspetta un po' Che ci è arrivato Un messaggio Due minuti Due minuti Due minuti E avremo Elentir Molto bene Perfetto Pathfinder in realtà È un buon sistema Per Dungeon World È un buon sistema Per se volete Avvicinarvi dal punto di vista Interpretativo Pathfinder È un ottimo punto Di partenza Se invece volete Avere un set di regole Che vi dà Un inquadramento Per la maggior parte Di quelli che saranno Poi i set di regole Con cui andrete a che fare Perché è sufficientemente Complesso Ma non Molte delle cose Che dice Si possono Tranquillamente Tagliare Dungeon World È estremamente scarno Pathfinder Permette di scegliere Cosa tenere E cosa no Sì è vero In un certo senso così Poi adesso noi In realtà Buon GM Avevamo iniziato Anche a provare La quinta edizione Di Dungeons & Dragons Che è uscita Di cui io Vi dico Io sono un fan Spiegatato Perché avendo provato Le quattro Perché diciamolo pure Quattro edizioni precedenti E Pathfinder Trovo che la quinta edizione Sia geniale Dal punto di vista Di come l'hanno gestita Di come Delle variazioni Che hanno fatto Sono veramente Un grandissimo fan Della quinta edizione Del lavoro Che ci stanno facendo Ecco poi Eventualmente Potremmo fare anche Un discorso di questo tipo Ovviamente Noi adesso Continuiamo a giocare A Dungeon World Andremo avanti Finché L'avventura Farà il suo corso I nostri personaggi Faranno le loro storie Il loro corso Eccetera Però in futuro Se effettivamente Questa cosa vi piace E vi interessa Potremmo Prendere in mano Degli altri giochi di ruolo Creare degli altri personaggi E giocare Delle altre avventure Come ad esempio La quinta edizione Di Dungeons & Dragons Ad esempio Il buon Titus Per esempio Aveva proposto anche Cthulhu Call of Cthulhu Giusto? Call of Cthulhu O Sinerequie O Sinerequie anche Cioè vi faremo vedere Diversi giochi di ruolo Ci vorrà del tempo Ovviamente Perché Sicuramente Ecco su Youtube C'è un altro canale Che è Dice Game Italia Dove tendono a fare Delle avventure Molto molto brevi Per far vedere Più giochi di ruolo Possibili Però in questo modo qua Si tende secondo me Anche ad esaurire Un po' in fretta Gli argomenti Da trattare Allora Magari Visto che noi siamo qui Anche per divertirci Oltre che per divertire voi Vi facciamo conoscere Sicuramente dei giochi di ruolo Però li vorremmo trattare Un po' più approfonditamente Un'avventura Magari un attimino Più lunga Di modo tale Che voi potete anche Vedere un pochino A pieno Le regole Il sistema di gioco Quanto più lento Può essere un sistema Rispetto ad altri E vediamo un attimino Così Vedo una Una domanda Nella chat Di Gobbo Cyberpunk Allora Io Personalmente Hai appena Sfondato una porta Aperta Per quanto mi riguarda Perché Sì Grandissimo fan Di Cyberpunk Se devo essere sincero Nell'ultimo periodo Stavo dando Una profonda occhiata A Shadowrun Che aggiunge Tutti gli elementi Di Cyberpunk Con anche Un attimo più Di elementi fantasy Quindi è un insieme Delle due cose L'unico problema È che è Estremamente Complesso Da dover gestire Un incubo Però è bellissimo Anche quello Lo amo Sempre Più che Cyberpunk Io andrei quasi Su qualcosa di più Magari Noir O legato Anche a quella Cioè Bisognerà vedere Poi cosa Decidiamo di fare C'è Tutta la linea Dei giochi Sul Sui Mostri Classici E l'entier Ce l'abbiamo Sì Ciao Ere Sento dei sussulti Oh è arrivato Il buon Elentier Benissimo Ciao ragazzi Ti abbiamo fatto Far le corse E il link Parecchio Va bene Ok Adesso il GM Ci pensa a lui Il GM Adesso penso al link Numenera abbiamo anche giocato Oh yes È stato Numenera È bellissimo Ed è stato E' stato Esplosimo Benissimo Preciso È vero Titus ci ha fatto saltare in aria Tutti quanti Quindi abbiamo giocato un po' pochino In realtà Ah Bello Ti ho postato il link Ti ho postato il link Grazie Comunque io sto meglio Grazie Chi l'ha chiesto Ottimo Ottimo Sì sì Adesso ho ripreso Sì nel frattempo abbiamo fatto due tonsillite e uno tite in famiglia Ma non importa Ragazzi questo è quello che succede quando si hanno dei bimbi piccoli Tre su quattro sotto antibiotici Ma ok Chi era il terzo? Eh io Lui e Aurora Ah Aurora Ok In realtà anche Filippo perché insomma è praticamente Filippo instancabile Imbattibile No veramente lui regge Sì lui A parte quando è con me Ecco no Quando è in braccio a Elentir si addormenta nel giro di 5 minuti Sì è vero Elentir è venuto a trovarmi l'altro giorno in negozio Trovarci in negozio Ha preso in braccio mio figlio E mio figlio Ha avuto un effetto Ha avuto un effetto soporifero incredibile E non so se è la puzza o cosa No ma adesso è proprio la puzza Porca tra un attimo che mi si è tolta la Ma dove è? Meno del disagio Percepisco del disagio Adesso devo chiedergli anche dov'è Perché sembra un hotel molto anni 80 Chiedono un GDR tipo Walking Dead Però io direi che Sine Requie sarebbe Sine Requie Sine Requie può essere interessante Sine Requie può essere interessante Intanto ha un sistema di gioco particolare perché non usa i dadi ma usa le carte I tarocchi I tarocchi Dopodiché fate finta praticamente Ha un'ambientazione molto particolare Fate finta praticamente che durante la seconda guerra mondiale le cose siano andate piuttosto diversamente Del tipo a un certo punto a una certa data ben specifica I morti si rialzano in piedi Ci sono i non morti Ok? Il terzo Reich vince E quindi diventa il quarto Reich In Italia Vince, è un parolone Diciamo che nessuno fa più Non rimane nient'altro Lui dice che vince Nell'Italia praticamente la chiesa prende il potere E quindi ritorna a esserci l'inquisizione Ritorna a esserci i templari Si ritorna un po' indietro per certi versi Poi cosa succede? In Russia si è comandati da lo Zar Ma Zar è scritto come Z.A.R. Un computerone gigante praticamente E poi che cos'altro? Non si sa molto negli altri paesi cosa sia succedendo Perché sono scoppiate diverse bombe atomiche E quindi si sono persi un po' i contatti con gli alleati Con gli inglesi Nelle Americhe non si sa che cazzo è successo Gli inglesi in realtà sono considerati terre selvagge Ok Guardo male Come la Francia, la Spagna Sono tutti considerate terre selvagge In Egitto si sono risvegliati le mummie Bellissimo Sono mantenute Infatti ci sono diversi tipi di non morti Non è che c'è solo il non morto classico Ce ne sono diversi Comunque approfondiremo eventualmente Approfondiremo altri giochi di ruolo Posso dire un attimo? Dimmi Dei dubbo che tu sia in una località calda No, più che altro Fuori sono 4 gradi Ma dentro sono 20 26 Ma dove sei? Alla faccia Repubblica cieca Ok Birra 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 Essendo in Repubblica cieca Vabbè Poteva che andare così Allora ragazzi Cosa dite? Siamo pronti? No, va bene A posto No, no, a posto Stavo per fare un sequitur Sull'ultima uscita di Titus Ma meglio se non lo faccio A posto Va bene Va bene Cominciamo Cosa dite? Ma sì Se avete voglia Possiamo cominciare Tanto sarete morti Prima della fine Cioè Dicevo Allora Facciamo un piccolo Velocissimo Ricapitoliamo velocissimamente Cosa è successo Durante la sessione precedente Il nostro Sparuto Ma valoroso Gruppo di Avventurieri Perché definirvi eroi È ancora presto Sta viaggiando Verso la capitale Di Rectaria La capitale del Regno di Rectaria Per Mentre fa la scorta Armata Ha una carovana Che trasporta Bestiame Da vendere O comunque Da impiegare Nelle trattative commerciali Durante quella che è La festa di fine estate Il festival di fine estate La carovana Di proprietà Della famiglia Lancaster Con cui Voi state viaggiando Come Scorta Guardie armate O semplicemente Elemento di protezione Ha viaggiato Per alcuni giorni Senza incontrare Particolari Difficoltà Fino a quando Nei pressi di un ruscello Non siete stati Assaliti Da quello che È stato definito Uno squallo di terra Un'immensa creatura Simile a Un'altra struttura Semimetallica Semirocciosa Che ha cercato Di divorarvi Completamente Ha divorato Parte del carro Delle vettovaglie E ha Anzi L'intero carro Delle vettovaglie E rischiava di divorare Parte della mandria Oltre che parte di voi E che siete riusciti In particolar modo In particolar modo Del buon farley Esatto E che siete riusciti In maniera anche Piuttosto rapida A sconfiggere A uccidere E guadagnandovi così Non solo La gratitudine Ma anche il rispetto Da parte Dell'intero carrovana Durante questo Gli elementi Più Importanti Di questo scontro Sono stati Il colpo Da maestro Delle arti arcane Lanciato da Aignor Nei confronti Dell'animale Che è stato Letteralmente Fritto dall'interno Dal potere Di uno dei dad Incantati Da Aignor È stata La rovinosa Caduta Di Titus All'interno Di una grotta Scavata Un tunnel Scavato probabilmente Dalla bestia Utilizzato per spostarsi All'interno Della quale Titus Ha rinvenuto Qualcosa Un oggetto Di non specificata Provenienza Marchiato Con il simbolo Di una delle due Divinità Che Titus Serve Quella che Fondamentalmente Serve di meno Ossia La Il simbolo Di Ectorius Il dio del massacro E L'altro È stato Il tentativo Fallito miseramente Di farle Di impossessarsi Di parte Della paga In anticipo Purtroppo Però Il portiere È tornato Nelle mani Dei legittimi Proprietari Quindi dovrà Aspettare Per portare In salvo E portare A casa Una Lautamancia Con largo Anticipo Quasi Dimenticavo È stata La Sconfitta Del mostro Nonostante Il colpo Da maestro Di Eignor È stata dovuta Nella maggior parte Di casi All'incredibile Abilità di combattimento Di Ivy Che da sola Praticamente È riuscita A tenere testa All'animale Mentre Il resto Dei suoi compagni Stava ancora Cercando Di rendersi Bene conto Di cosa Stesse succedendo Con queste premesse Con il Nuovo rispetto Che vi viene Conferito Da questa Impresa Che avete compiuto La creatura Che avete sconfitto Dopotutto Non è una creatura Di poco conto Non stiamo parlando Di scacciare I topi Da una cantina Stiamo parlando Di abbattere qualcosa Largo Quanto una palazzina Di due Grande quanto una palazzina Di due piani Abbiamo la riconoscenza Anche di alcune mucche Mi ricordo Una in particolare Una in particolare Sembra avere Sembra Non si sa Se per Una Leggera interferenza Nel flusso Delle arti arcane O semplicemente Perché Beh Il personaggio in questione Ha un certo carisma bovino Il famoso carisma bovino Comunque ti ringrazio Per aver Sognato il fatto E ilogiato A Ivy Quando Mentre lei picchiava Ero io che tenevo Farme la bestia Grazie Comunque Mi hai proprio sputato Così addosso Come Di questo potete parlarne Perché Sì effettivamente Tu Tu sei quello che ha dato Il colpo di grazia Quello l'hanno visto tutti Che la bestia stesse lì ferma Nessuno si è accorto Sei stato totalmente bravo Che nessuno si è accorto Del fatto Di che cosa stessi facendo Praticamente Sei stato come Dio Scusa un attimo Nessuno sa cos'è Che tenevo fare Ma io però Quando c'è da prendere Per il culo Che la vacca Mi leccava Tutti quanti Tutti quanti Prendono per il culo Capito Così impari A tirare un 5 Quando devi tirare Un 5 Che ti devo dire Dai Vabbè Con queste premesse Beh avete proseguito Lungo la strada Per Qualche altra ora E vi siete Accampati Un po' più avanti Lungo la strada Lungo la grande via Occidentale Che porta verso Rectare Anzi questo sentiero Parallelo alla grande via Occidentale Vi siete accampati Per la notte Siete tutti riuniti Attorno al grande Palò da campo Sono state Aperte Delle botti di birra Extra Per festeggiare Per festeggiare L'evento E festeggiare Il fatto di essere Sopravvissuti A questo incontro Tutti quanti Vogliono Fare un brindisi Con voi Che vi stanno Trattando Con estremo rispetto Siete tutti raccolti Lì attorno al fuoco Che cosa fate? Io vado in cerca Di Robert Robert Figlio del caro vaniere Robert L'alchimista Figlio del caro vaniere Esatto Ok Ignor che cosa fai? Dopo Farley che cosa fai? Per capire Allora io sono Particolarmente Messo male Sono particolarmente Ferito Per cui penso Che Mugugnando Ok Cerco qualcuno Per farmi curare Le ferite Insomma Per farmi sistemare Rattoppare Sì diciamo Che vi hanno Rattoppato Rattoppato Alla bella e meglio Fondamentalmente Sì Vi hanno messo su Delle bende Vi hanno fasciato Vi hanno ripulito Anche dalla polvere Dalla sporcizia Vi hanno messo un minimo di 20 Non c'è un Un infermiere Specifico Ma sono tutte persone Che sono abituate A una vita all'aria aperta E anche a ferite Leggere E le vostre ferite Nonostante Il quantitativo Di legnante Che qualcuno di voi ha preso Sono Trattabili Da chi ha un minimo Di esperienza In pronto soccorso Diciamo che Con Delle cure costanti E il riposo Potranno Sicuramente Tornare Potrete Sicuramente Tornare Al massimo Dell'efficienza Io intanto Mi metto a studiare Scusa Effettivamente Io non devo studiare nulla Perché l'unica La magia che ho lanciato Che è Guarda il dardo In teoria Non l'ho neanche persa No Il dardo incantato È ancora a tua disposizione A meno che tu non voglia Preparare Degli altri incantesimi Quindi Cambiare L'incantesimo Che hai a disposizione Di primo livello Non è necessario Che studi niente Ne ho solo uno Di primo livello No? Se non ricordo male Si puoi preparare Al massimo Un numero di incantesimi Il cui livello complessivo Non sia superiore Al tuo livello Più uno Quindi puoi preparare Fino a due incantesimi Di primo livello Uno è il dardo incantato E puoi sceglierne un altro Tra quelli che hai a disposizione Ossia invisibilità Oppure evocare banchetto Invisibilità Ok Allora Fammi un No Diciamo che se l'avevi già preparato Da prima Perché non li avevi selezionati I due incantesimi Prima Quindi va bene No Non devi studiare niente Perché non ti sei dimenticato Nessuno degli incantesimi A tua disposizione Ok quindi Se vuoi studiare il tuo libro Lo fai semplicemente Per passare il tempo Fondamentalmente Ma è più un Potresti anche metterti a scrivere O a fare qualsiasi altra cosa Ma non hai necessità Di memorizzare nuovamente Gli incantesimi Che puoi lanciare Per tirartela Come sei bravissimo a fare No Pensavo Con invisibilità Che sicuramente Pensavo di girare Per il campo Un poco aria Gallo-Citronesca Sì Con una buca dietro Lo sai vero Che comunque No beh La buca sarà finita L'effetto Cristo Era un incantesimo Non hai mucche Che ti seguono Va tranquillo Ottimo È un peccato Al momento Al momento Non si sa mai Per il momento Non ci sono mucche Che ti seguono L'hanno dovuta abbattere Quella comunque Oh va la nuca È il banchetto Di questa sera Comunque giro Giro con aria Gallo-Citronesca Per il campo Senza in realtà Un obiettivo Di scoprire qualcosa Guarda un po' Cosa fanno È Comunque giro per vantarmi Per tirarmela Ok d'accordo Durante questo tuo tragitto In mezzo al campo La gente ti vede Ti guarda Prima di tutto Perché sei un elfo Fondamentalmente Nonostante la moglie Del Di mister Lancaster Quella via di mezzo Nel riverbero di emozioni Che ti trasmettono Che sembrano Avere una voglia matta Di avvicinarsi a te Per complimentarsi Al te Possessi essere Terrorizzati di fare qualcosa Che possa provocare la tua ira Quindi è come se fondamentalmente Vedessero Vedessero una celebrità E non sapessero bene Come interagire Allora scusatemi Ma bisogna ringraziare Gobbo Che ci ha Gentilmente Donato 5 euro Grazie infinite davvero Grazie Gobbo Grazie Grazie davvero Per il supporto Grandissimo Gobbo Scusate l'interruzione Ma No figurati A posto Ci sta Il canale Il canale è tuo Ma soprattutto Questa cosa Richiedeva Un ringraziamento immediato Grazie mille davvero Ok Quindi Sono tutti un attimo lì Che non sanno bene Che cosa fare Fino a che a un certo momento Non ti senti Battere su una spalla Mi volto a vedere Mi volto a vedere Chi mi ha battuto sulla spalla Dietro di te C'è Uno dei mandriani E' quello Probabilmente Più Imponente Dal punto di vista Fisico Un bestione Alto Quasi Due metri Spalle larghe Fisico Da chi ha passato L'intera Esistenza Fondamentalmente All'aria aperta E a fare Lavori di Lavori di Fatica Quindi Secco Nei punti giusti E muscolosissimo Nei punti ancora più giusti La pelle Cotta dal sole Quello che Sotto tutti i punti di vista Non si può che definire Un gran bel tipo Con questo sorriso Amichevole Completamente Sporco di terriccio Sulla faccia Sporco di polvere Si fa Un breve cenno Con la testa E ti porge Un boccale Stracolmo Di birra Schiumosa Dicendoti Beh Non so esattamente Se dalle tue parti Questa è una cosa Una di quelle cose Che si bevono volentieri Ma Qui quando noi Dobbiamo festeggiare E' questo che buttiamo giù Volevo ringraziarti Per l'aiuto Che ci hai detto oggi Gli faccio Un cenno Di sorriso Dico Non c'è di che E prendo il bicchiere E mi allontano Col bicchiere in mano Sosseggiando magari Un sorso Non tracannando Come Un tedesco Sottoberfest Nel senso Sosseggiando Resta un attimo lì Pensando che Avresti magari Fatto un brindisi O qualcosa di simile Vedendo che te ne vai Resta un attimo Sul posto Bloccato E ti fa Io sono Duncan A proposito Piacere di averti Conosciuto Vedi che Prende E se ne va Con un attimo Quasi si divolta E lo vedi con la corda dell'occhio Allontanarsi Un po' con le pive nel sacco E un po' con Si va verso un Capannello Di altri Lavoratori Comunque Gli altri membri Della carovana Che gli si avvicinano Sembrano quasi batterli Sulla spalla Per dire Dai Ci hai provato Ma lo sai Come sono quelli lì Insomma Hai chiaramente La sensazione Hai già visto Scene di questo tipo Che il tuo Rifiuto Di interagire con loro Sia stato visto Un po' come una cosa Altezzosa Ma non Sgradita In questo caso Nel senso che Se lo aspettavano Ok Torniamo un attimo Guardando intorno Vedo Vedo la gente Che sta facendo Varie cose C'è qualche gesto Che mi può Disturbare Nel senso Che mi può portare Qualcosa Per il momento No Sei perfettamente in linea Con quelli che sono I tuoi Con quello che è il tuo Normale Filo dei pensieri Sei ancora Sufficientemente carico Anche dalla Dalla vittoria Conseguita Non stai prestando Particolare attenzione A quegli elementi Non sei in uno stato Che ti potrebbe portare Ad avere Una crisi Per così dire Ok Per il momento Titus Tu eri andato A cercare Robert Vero? Dammi un secondo Che chiedo A fargli gli Ivy Che cosa stanno facendo Beh allora Io sono già stato Rattoppato Sì Sei stato Rattoppato Dalla signora Lancaster In persona Ok L'elfa Sì Allora Ti domando Innanzitutto Quali sono Gli incarichi Normalmente Sia nostri Durante Il periodo Cos'è adesso È sera Che cos'è notte Sì Poco dopo Siamo Poco dopo il tramonto Poco dopo il tramonto Gli incarichi Diciamo serali Nostri Quali sono In questo caso Vi è stata data La serata La nottata libera Perché fondamentalmente Avete già fatto Durante il giorno Avevate appena staccato Dal turno di notte La notte precedente E durante la mattina Siete stati Assaliti Doveva essere Il vostro momento Di riposo Siete stati Assaliti Da questa creatura E siete stati Gli unici A intervenire In maniera Tempestiva Quindi Avete La nottata libera Possiamo festeggiare Ok Tra Le Le figlie Del Mister Lancaster Sì Hai già capito Bravo Mi piace Questa Questa sintonia Esatto C'è Qualcuna Di Carina Di papà Caroline 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 Vai da Caroline Sento delle voci Sento delle voci All'interno Del mio microfono Allora Come ti dicevo L'altra volta Entrambe le figlie Sembrano avere Già nei giorni precedenti Ma anche Nel Soprattutto dopo Il tuo Gli exploit Della mattina Aver aumentato Il livello Di interesse Nei Nei Tuoi confronti Anzi nei vostri confronti Fondamentalmente Nei tuoi confronti In particolare Farley Probabilmente Per il tuo Aspetto Che ti rende Quello Un po' più Sai il classico Bel tenebroso Del Del gruppo Bello Bello in modo assurdo In realtà no Titus È più affascinante Di lui Però è anche Un uomo di chiesa Chiesa Ora Ed è anche Un po' Omosessuale Se vogliamo Dirla tutta Tecnicamente Tecnicamente Sei Tecnicamente Sei un uomo di chiesa Vai in giro A dire Che sei un uomo di chiesa Non sono interessato Molto alla patonza In questo momento Mettiamola così Ho un altro tipo di problema La mano sinistra Esatto Sei più occupato Dalla tua mano sinistra Che dalla patonza Su questa Ci potremmo scrivere Fondamentalmente Un intero libro Considera che sono destro È un casino Esattamente Quello è il problema Detto questo Ignor Le intimorisce In quanto Elpo oscuro E praticante Delle arti arcane Nessuna di loro Sembra avere mostrato Particolari interessi Nei confronti di Ivy Probabilmente quindi Non appartengono A quella specifica parrocchia Nel caso di Titus Tu sei un uomo di chiesa Sì Caroline ha fatto L'occhiolino Ma lo fa a te Così come lo fa Praticamente a Qualunque altra Altra creatura Si muova Incluse le mucche È una ragazza Estremamente Alla mano Estremamente Cortese Estremamente Simpatica E estremamente Energica E quindi sì Fare l'occhiolino Per attirare L'attenzione È una delle sue Tecniche preferite Vi sembra di aver capito Dal poco tempo Che avete trascorso Con la famiglia Lancaster Nel caso di Farley Però appunto Questo suo aspetto Un po' da Canaglia Un po' da Bel tenebroso Un po' da Furfante Ovviamente Ragazzo di città Furfante Bel tenebroso Che va Nella zona Un po' più rurale Diciamo che sono Praticamente È naturale Come i merli Che cacano sui pini Che attira l'attenzione Ok Una cosa Sì Scusa Girando intorno Sì Dubito Perché essendo Intorno A dei nani Che solitamente Anzi Erano spaventati Nonché Surprise Della mia magia Riesco A notare Qualcosa Qualche fonte Di magia Magari Qualche Oggetto Che possa Tirare La mia Intenzione Che possa emanare Magia Che stanno Trasportando Ok Sta sicuramente Sta sicuramente Cercando Di attirare La tua Attenzione Così come Noti Che c'è Una grande Attenzione Nei tuoi confronti Anche da parte Di Laura Lynn Quindi La figlia di mezzo Quella Che è Meno Appariscente Dal punto di vista Estetico Ma che Si sta dimostrando Nei tuoi confronti Molto più Aperta E servizievoli In un certo senso Perché ti ha Portato Un boccale Di birra Ti ha portato Una ciotola Di stufato Ti sta In un certo senso Quasi Coccolando Mentre Caroline È più In disparte Che Sembra Sta lì A dire Vieni A prendere Che sono qui Mamma Mi sa che Stasera Si diverte Tantissimo Farle Tantissimo Voglio vedere Una lotta Nel fango Voglio vedere Ivy Che cosa fai Nel frattempo Mi ammazzo Almeno nel gioco Di ruolo Fammi fare No no Fa che cazzo Di fare Allora Invece io Volevo andare A parlare Proprio con Caroline E quindi Ivy Per vendetta Subito da Duncan Immediatamente Tempo zero Vai a parlare Con Caroline Sì Ok In quanto Capomandria Sì Allora Te lo descrivo Un attimo Caroline È una ragazza Sui Capomandria Me ne frega Un cazzo Che sia Caroline Dopo se ti metti bastoni Fra le ruote È ancora meglio Aspetta Aspetta Caroline È il capomandriano Fondamentalmente È una ragazza Sui Sui 20 Diciamo 20 22 anni Anche lei Estremamente Avvenente Da Sotto Qualsiasi Punto di vista Anche tu In quanto donna Non puoi fare a meno Di dire Beh È sicuramente Una Una donna Estremamente Attraente E vedi E vedi E vedi anche L'effetto Che ha Sugli Sugli uomini Che la circondano Come riesca Ad attirare La loro attenzione Con estrema facilità Capelli Sul Castano Ramato Che arrivano Fino a metà Della schiena Raccolti Solitamente In una Pesante Treccia Vestiti Da lavoro Che però Delinano In maniera Estremamente Efficace La sua Figura Di Suo fisico Di una ragazza Che ha passato Anche in questo caso Buona parte Della sua Esistenza All'aria aperta A cavalcare A correre E quindi Ha Il fisico Asciutto E Ben definito Di una Giovane donna In perfetta Salute E che fa Un sacco Di attività Fisica È Una Gli occhi Sono di Un Profondo Verde Acqua E Ha Un sorriso Estremamente Amichevole Estremamente Contagioso Anche È Difficile Non Tenere Il broncio Quando sei Vicino A Caroline Anche perché Il suo modo Di fare È Estremamente Espansivo In senso Buono Nel senso Che È Sempre Sembra Sempre Essere In grado Di Dare Supporto Mettere Una Buona Parola È Una Persona Che Ti Sembra Essere Estremamente Positiva Quindi Ti avvicini E Ti saluta Come se Foste Vecche Amiche Ai Sono così Felice Che tu stia bene Prende Ti corre Incontro E ti abbraccia Letteralmente Ok Ricambio Il suo abbraccio Non sei ferita Vero La tua bestiola No ti prego Dimmi che non Ti è successo Niente di male No stiamo entrambi Molto bene Non ti preoccupare Ce la siamo vista Brutta Ma Siamo riusciti A cavarcela Senza un grafio Entrambi Posso farti Una confidenza Porca troia Se avrei voluto Affondare Anch'io Una lama All'interno Di quel bastardo Come è stato Lo immaginavo È stato molto Molto soddisfacente Veramente Molto soddisfacente Aspetta 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 Dobbiamo festeggiare Aspetta Prende una birra Prende una birra E te la porta Prende un boccale E te lo porta Fa un brindisi a te Ti ho visto Come ti sei mossa Mi piacerebbe Vederti combattere a cavallo Una volta Devi essere Uno spettacolo Prende Boom Fate il bicchiere Sul tuo Il boccale sul tuo Salute a te Carolene Grazie Della birra Intanto Volevo chiederti Ma Bessie di queste Di questo tipo Ne avete viste ancora Vi è capitato ancora Di incontrarle Durante i vostri Viaggi È stata la prima volta In 4-5 anni Che ci succede Un incidente Di questo tipo Purtroppo Il territorio È marcato Da È completamente Disseminato Di bestie strane Il regno di Rectaria Non fa niente Per tenere pulito Le zone Di confine E i rangers Fanno quello che possono Ma fondamentalmente È un proliferare Continuo Di strane creature Quella Una di quel tipo È la prima volta Che la incrociamo Avevamo incrociato Lupi Avevamo incrociato Strani esseri alati Uccelli predatori Addirittura una volta Papà Racconta Che quando era più giovane Durante una Una traversata Era spuntato Un gigantesco Insetto Da sotto terra Qualcosa che sembrava Uno scarafaggio gigante Che lui dice Sputava acido O cose di questo tipo Ma Nessuno gli crede Fondamentalmente Sai Potrebbe essere Una di quelle cose Che si è inventato In realtà Si trattava Che ne so Di un'invasione Di lombrichi E Beh Diciamo che era la prima volta Che abbiamo incrociato Un qualcosa di così pericoloso E per fortuna Che c'eravate voi No Perché sai Vorrei capire Se è stata una fatalità O se c'è Qualche altro motivo Per cui Abbiamo incrociato Proprio Ci sono un sacco di creature Che girano Ci sono un sacco di creature Che girano da quella Che girano qui attorno E Non ho idea Da dove arrivasse Non ho idea Spero non ce ne sia Spero vivamente Non ce ne siano altre Perché Dubito che Dubito che mia madre Potrebbe sopravvivere A un altro spavento simile E io dubito Che potremmo essere Ancora così fortunati A riuscire a sconfiggerne Un'altra Con questi Danni molto relativi Effettivamente Tu Ivy Non sai molto Di questa creatura Perché Tecnicamente Nessuno di voi L'ha studiata Dopo che l'avete abbattuta È vero È vero Quindi nessuno di voi Fondamentalmente Ha A meno che Al momento O ti metti a cercare Di ricordare qualcosa Altrimenti È molto difficile Che tu sappia Qualcosa di più Specifico Su questa creatura Se vuoi sapere Se Presumere Da come Mi pare di capire È possibile Che sia stata inviata Da qualcuno O cose di questo tipo No Io quello che volevo capire Era da Caroline Quanto frequenti Quanto frequenti fossero Nel senso che Ovviamente Visto che il viaggio È ancora lungo Preferisco sapere È possibile Che ce ne siano È possibile Che ce ne siano altre Ma Caroline Non ne ha idea Di studiare Il comportamento O le abitudini Di questa creatura Io immagino Che Caroline Non ne sappia molto È una domanda Era la prima volta Che ne vedeva una E speravo di fare Magari a Egnor O a Titus Che forse hanno Una conoscenza Un po' più approfondita Certo Della cosa Giusto perché Insomma Meglio essere preparati Certo Ecco no Da Caroline Volevo solo farmi Raccontare un po' Come vanno Solitamente I loro viaggi Come Che tipo di Creature Incontrano Quali sono I pericoli Diciamo Normali Che si possono Trovare In questo tipo Di territori Si dice che Fino adesso La cosa più pericolosa Che avevano affrontato Era stata Una Sparuta Ma proprio Minima banda Di orchi Che Probabilmente Era Una banda Di razziatori Che era stata Decimata Dall'esercito Dalle guardie Del regno Direttaria Che mentre Stava scappando Per tornare Verso I territori Degli orchi Che sono più a sud Rispetto alla vostra Posizione Avrebbe Stava cercando Fondamentalmente Di non tornare A casa Con le pive nel sacco E aveva provato A fermarli Ma erano Tre contro Una trentina Di Contro una trentina Di mandriani Quindi Diciamo che La scaramuccia E la scaramuccia È durata Pochissimo Ho capito Va bene Oddio Gli orchi Si sono portati A casa Sei braccia Però Hanno perso La vita Ok Bene Io penso che Finirò Di intrattenermi Con Ivy Per il resto Della serata Così evito Con Ivy Con te stessa Scusa Con Caroline Così evito Che vada a farsi male Con questo Disgraziato Qui Al mio fianco Ok D'accordo Passi Il resto Della serata Chiacchierando Con Con questa ragazza Che Nonostante Tu abbia Un passato Che è molto Più burrascoso Rispetto al suo Il vostro Modo di fare Almeno Per quanto riguarda La La determinazione La voglia Di esplorare La voglia Di mettervi Alla prova È estremamente Simile Quindi Crei Un Si crea Quasi istantaneamente Un Un buon legame Con questa Con questa Fanciulla Nonostante Sia un po' Un po' Ingenua Su certe cose Su certi aspetti Sia ancora Non immatura Ma semplicemente Non abbia Ancora visto Quelli che possono essere Gli aspetti Un po' più Complicati O Insidiosi Del Del fatto Di avere Maggiori Responsabilità O Maggiori Preoccupazioni Ha comunque La testa Estremamente Ben piantata Sulle spalle E questa è una cosa Che tu apprezzi Cioè non è Un'oca giuliva Anzi È molto Molto Competente Soprattutto per quello Che riguarda Il suo Il suo Ambiente E la sua Capacità Di anche Dare ordini E comandare I mandriani Non hanno per esempio Nessun tipo di Di problemi A prendere ordini Da Caroline Perché Caroline Sa quello di cui Sta parlando Ok Detto questo Torniamo Un secondo Da Aignor Che mi aveva Chiesto se C'erano Elementi Di Se c'era Qualcosa Di magico Che attirasse La sua Esistenza Allora A prima vista O a Sentore Così Non ti sembra Che ci sia nulla Di particolarmente Arcano Però Tu Se non sbaglio Contando Contando Che c'era Comunque sia Quella pietra Che Si è Ha preso Il controllo Della mano Di Titus Pensavo Che Ci fosse Qualcos'altro Quale pietra Ah non l'ho vista Ah non l'ho vista No Ma non ho neanche Sentito Non ho neanche sentito La presenza Di quella pietra Non mi hai detto Non mi hai detto Che ti mettevi A cercare Elementi Magici Mentre Allora niente Ti stavi pullando Del fatto di aver Appena fatto fuori Il bullet Quindi bullandoti Del bullet Non ti sei accorto Della pietra Quella vacca Esatto Avevi anche Dei seri problemi Con una vacca Ricordiamolo In quel momento Io provo a cercare Posso Usare In caso In caso Declamare Conoscenze Se non sbaglio Tu hai anche Un incantesimo Specifico In questo caso Che è Individuazione Del magico Essendo un elfo Sì infatti Potresti Tranquillamente Sì Utilizzare Allora Dyscerne In realtà È una cosa Che puoi sicuramente Fare Per cercare Di capire Ovviamente Tieni conto Delle domande Che mi puoi fare Utilizzando Dyscerne In realtà Altrimenti Volevo dire Individuazione In realtà Individuazione Del magico Intendi Individuazione Del magico O per non dire Individuo Magia Sicuramente È un'ottima Cosa Da poter utilizzare In questo caso Ok Fammi un tiro Per lanciare L'incantesimo Primo tiro Della serata Intelligenza O Intelligenza Primo tiro Della serata Signori Pronti Dove Vai Discreto Ok Allora Le uniche Nella posizione In cui ti trovi Quindi sei un po' Distaccato Da quello che è Il centro Del 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 campo Fondamentalmente Sì Il centro Dell'accampamento Ti sei un attimo Allontanato Per fare una passeggiata Per restare da solo Con i tuoi pensieri Anche perché Nonostante tu Ti stia Favoneggiando Vuoi attirare L'attenzione Ma al tempo stesso Tenerli un attimo A distanza Questa Manica di Gentaglia Fondamentalmente Bovari Bifolchi 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 È la parola Appropriata In questo caso Ti concentri Ti concentri Per un istante Chiudi gli occhi E concentri La tua La tua mente Sull'energia Arcana E ti sembra quasi Di estendere La tua percezione Tattile Al di fuori Di te Come se sentissi Le vibrazioni Arcane Che provengono Dall'atoma Al di là Di quella Che è La Magia L'energia Magica Normale Che è presente Nell'aria Che è quella Che ti permette Tra le altre cose Di lanciare I tuoi incantesimi Oltre al potere Stesso Che è dentro Di te Che in realtà Serve solo Come scintilla Per far Scatenare L'energia Arcana Grezza Presente All'interno Dell'aria L'unico Punto Da cui Percepisci Un minimo Di vibrazione Di potere Arcano Piuttosto Velata Tra le altre cose È Uno dei carri Che è Più Proprio Nel punto Più Lontano Rispetto Al resto Del campo È un carro Rispetto agli altri Questo carro È chiuso Con tanto Di Mentre gli altri Sono Sai I classici carri Stile Casa nella Prateria Quindi Con Il telone Bianco Sopra E l'arcata In questo caso È un carro Rettangolare Completamente Chiuso Ok E ci sono Degli strani Simboli Disegnati Sopra Disegnati Mi avviciniamo Mi avviciniamo Per investigare Ok Questo è Da quello che ti pare Di capire Il carro Che viene Guidato E utilizzato Da Robert Il figlio Di Mr. Lancaster E quello che si diletta Nelle arti Alchemiche Che noi non abbiamo ancora visto Però L'avete visto Ma soltanto Intravisto Al momento Da quello che ti pareva di vedere L'avevi visto Accanto al Falò Che si stava Rifocillando Molto velocemente Però Non gli hai prestato Particolare attenzione Mi avvicino Verso di lui Verso il carro O verso Robert Verso Robert Devi tornare indietro Allora Rispetto alla posizione In cui sei Perché ti hai allontanato Mi avvicino verso di lui Quindi puoi passare agli altri Mentre mi avvicino Ok Torni un attimo indietro Per tornare A cercare Appunto Robert L'alchimista Robert che se non sbaglio Era anche Il bersaglio Della attenzione Di Titus In questo caso Che lo vede Lo vedi Al vicino Al fuoco Si tiene in disparte È vicino Fondamentalmente A quella che è La postazione Del cuoco E Più che Robert È il cuoco In questo caso A attirare La tua attenzione È un Signore anziano E per anziano Ovviamente Trattandosi Di questo tipo Di ambientazione Diciamo che ha Passato I 40 Da un po' Completamente Questa Lunghissima E molto Folta Barba Che gli arriva Praticamente A metà Del torace Non indossa Un Indossa Soltanto Il grembiule Da cuoco Su questo Ampissimo Torace Completamente Coperto Di cicatrici Gli manca Un occhio Che è coperto O almeno Ti sembra Che gli manchi Un occhio Visto che ha Una vistosa Benda Sull'occhio Sinistro Sinistro Le orecchie E le dita Sono ricoperte Di anelli E strani Simboli Anelli Orecchini Strani elementi Di gioielleria Tutti disposti In maniera Che sembra Assolutamente casuale Che fanno più Un effetto Di quasi Un effetto Barocco Ti disturbo Proprio Una cosa Che dici Ma perché Ti sei messo Quella roba Addosso Una Le braccia Sono due tronchi Praticamente Una gamba È di legno O almeno È di legno Dal ginocchio In giù E Ha Un modo di fare E dei toni Che Lo rendono Sicuramente Il Cuoco Meno Adatto A stare In una cucina Che tu abbia Mai visto Sembra molto Fuori posto Insomma Estremamente Fuori posto Oltre a questo Poco lì Di fianco a lui C'è Robert Robert che A differenza Delle Sorelle Non ha Ottenuto Il meglio Delle caratteristiche Delle due Razze Robert è Tarchiato Quasi quanto Il padre Ma al tempo stesso È anche Estremamente Mingherlino Quasi quanto Ha preso Lo stesso Livello Di Mi viene Esilità Ma non sono sicuro Che sia una parola Quindi diciamo La magrezza Tipica degli Elfi Con L'altezza Tipica Dei nani Quindi è Piccolo E estremamente Esile Oltre a questo Ha una Zazzera Di capelli Neri Sparati Da tutte Le parti Le punti Dei capelli Sembrano Bruciati In alcuni Punti In altri Sembrano essere Di colore Completamente Diverso Probabilmente Per il suo Trafficare Con gli elementi Alchemici Continuamente Ha una Tosse piuttosto Continua Una Carnagione Che definire Pallida Serebbe un Eufemismo E un Modo di fare Guardingo E scrutatore Che Non te lo rende Simpaticissimo Subito Di primo acchito Anzi Ti mette un po' Sulla difensiva Ok Allora Prima di avvicinarmi E di rivolgere La parola A Ignore Stessa cosa Vedi anche tu Io avrei una domanda Da fare Dimmi Hypnotista Quando io lancio L'incantesimo Dominatore Ok La persona Cioè Ipotisticamente A quel che leggo Io guardo Negli occhi Una persona Questa Se ho successo È bloccata Ma se non ho successo Non succede niente Giusto? Quando Esatto Se non hai successo Non funziona Non funziona Ma La persona Di per sé Non è che si accorge Che ho tentato Di ipnotizzarla Giusto? Dipende Dalla situazione È possibile Che non se ne accorga O è possibile Che se ne accorga Dipende Con chi lo fai Se lo fai Tipo su un Goblin Che non ha mai visto La magia in vita sua Nessun problema Se lo fai Su un mago Che è abituato Alle arti arcane Potrebbe accorgersene Tranquillamente Dipende Dalla situazione Non sembra Un mago arcano Robert È giusto Da quello che ti hanno detto È un alchimista Non hai altre informazioni Al momento Perché questa domanda Mi sto avvicinando Mentre Tito si avvicina Sì Vorrei Cernere meglio La situazione Com'è la situazione Intorno a me In questo momento Capire qual è Il rapporto Tra le due persone Cioè tra il cuoco E Robert Capire i vari stati D'animo Delle persone Lì attorno Ok Quindi stai andando Fondamentalmente A utilizzare La tua abilità Come empatico Che ti permette Di chiedere Che cosa stanno provando Vorrei usare Discernere in realtà E poi usare Le abilità empatiche Ok Fammi il tiro Su Discernere in realtà E poi fammi le domande Appropriate Nove Ok Ora con nove Puoi farmi una domanda Farti una domanda Yes No scusami Due domande Con nove No 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 Una domanda Una domanda Esatto Fermo una domanda Allora io ti chiedo Come posso Far provare A Robert Amicizia nei miei confronti Ok Da quello che ti pare di capire Robert è estremamente schivo E sembra essere Solamente Interessato Da quello che ti è parso di capire Percependo in giro Ascoltando Pezzi di discorsi Qui e là Particolamente interessato Solo ed esclusivamente Alla sua Arte alchemica Utilizzare Un minimo di O mostrare interesse Per quella che è la sua passione Oppure Utilizzare Delle conoscenze Che tu possa avere Di alchimia Per Per instaurare Un minimo di conversazione Con lui Potrebbe essere Il sistema migliore Per poter agire Per poter ottenere Il risultato che vuoi Ok Vorrei anche Analizzare Il prossimo futuro Utilizzando Le mie abilità Da oracolo Ok Quindi utilizzando Verità e conseguenze In questo caso Esatto Va bene Ok Saggezza di nuovo Sì Sempre sulla saggezza Aspetta Scegli Dimmi cosa scegli Ah no Prima devi fare il tiro Scusami Ti hai tirato Sì Non so quanto ho fatto Sette 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 Quindi Due gruppi Due persone Due gruppi Due istituzioni sociali Esatto Calgo Robert E il cuoco Ok In base a quale evento Descrivi un evento Descrivi un evento Che deve ancora accadere Sì Il fatto che io Mi avvicino A loro Sì Comincerò a conversare Con Con Robert Mostrando interesse Per l'alchimia Sì E Quando avrò Attirato la sua Attenzione Ti mostrerò Quello che mi è successo Alla mano Ok Ti concentri per un secondo Concentrandoti sul potere Che ti lega Alla Dama delle ombre Chiedendo La sua guida Perché ti mostri Fondamentalmente Quello che si cela Nel Il segreto Perché ti mostri I segreti Che si celano Tra le trame Del fato Chiudi gli occhi Quasi gli occhi Della mente Lascia aperti Gli occhi Fisici Ma chiudi gli occhi Della mente Per concentrarti meglio Mentre ti avvicini Verso queste due persone Focalizzandoti Sulla loro immagine Residua mentale E hai Quella che si può Semplicemente definire Una visione Vedi Te stesso Mostrare Il Marchio A Robert Che ha Un grande sorriso Nella Nella Visione Il sorriso di qualcuno Che Ha riconosciuto Vede un amico Comunque una persona Con cui gli piace passare Del tempo E Quando fai vedere Il marchio Robert Il sorriso resta Ma lo sguardo Cambia E lo sguardo Diventa uno sguardo Di abilità E desiderio Nel caso del cuoco Invece Vedi che Lo sguardo Si fa Più ampio E Lo vedi Fondamentalmente Che Sputa In preca E fa gli scongiuri E l'immagine Svanisce Mi avvicino A Robert E comincio A parlare Con lui Buonasera Padroncino Non tira neanche Sulla testa Continua lì A mangiare Il suo stufato Senza neanche Degnarti De uno sguardo Ho sentito Che state studiando Per diventare Un alchimista Sempre lì Forse Potreste Signarmi qualcosa Non ti guarda Non si volta neanche Ti guarda Ti guarda Soltanto Di sottecchi E fa E se ne fa Un uomo di chiesa Delle arti alchemiche E soprattutto Pensi di esserlo All'altezza Di capirla Sono Un uomo saggio Posso Sicuramente Apprezzare Qualcuno Che conosce Le arti alchemiche Sono convinto Che Potrei imparare Da lui Ti guarda Ma davvero Potreste mostrarmi Qualcosa Per esempio Magari qualcosa Che posso curare Anche le mie ferite O quelle O quelle dei miei compagni E che ci guadagno Posso pagare Per I vostri servizi Se questo Interessa Qual è il motivo Di utilizzare L'alchimia Se non per fare Un sacco di soldi Eh Allora Posso Quanto volete Per queste Per queste Dipende Di che tipo di servizio Abbiamo Di che tipo di servizio Stiamo parlando Posso realizzare Degli unguenti curativi Posso realizzare Delle pozioni Posso realizzare cose Che sono in grado Che sono in grado Di rivoluzionare Completamente Il tuo modo Di vedere Percepire La realtà Sono in grado Di trasformare Le sostanze L'una nell'altra Di che cosa Di che tipo di servizi Stiamo parlando Che cosa volete Da me Siete veramente abili In questa Dell'alchimia Siete molto Molto abili Pensavo Steste ancora studiando Invece siete già Un maestro Sì Me la cavo Beh Ma Prego Dimmi Cosa Cosa posso pagare Con queste monete Faccio vedere Le 25 monete d'oro Che ho Che ho trovato Fammi Un tiro Di Parlamentare In questo caso Quindi è Su Carisma Carisma Hai un più uno A risultato Perché hai Il bonus Mi stai sventurando 25 monete davanti 9 Ti agguanta Le 25 monete Dalla mano Un razzo Praticamente Non hai neanche Il tempo Di trattenerle Sono già sparita All'interno Dalla sua tasca E fa Beh Con queste Potrei avere qualcosa Che potrebbe essere utile A un Un uomo di chiesa Effettivamente O a qualcuno Che si trova Come oggi In circostanze Di pericolo Vedi che prende Da una Bisaccia Che ha al fianco E estrae Una piccola Fiala Di colore Blu scuro Questo qui è Una delle ultime cose Che ho Su cui sto lavorando E Io la chiamo Riposo Di luna È una pozione È una pozione Che va assunta Prima di Andare a dormire La puoi prendere così Il sapore dovrebbe essere Più che accettabile Almeno per me lo è Anice Liquorizia O cose simili Ma può essere Tranquillamente Mischiata All'acqua O al latte O anche agli alcolici Se quello Dovrebbe essere Il tuo Dovesse essere Il tuo interesse La cosa interessante È che una volta Bevuta E una volta Che trascorri Una notte di riposo Innanzitutto Ti permette Di recuperare Più velocemente Dalle ferite Che potresti aver subito E il sonno Che fai È comunque Sufficientemente Leggero Da permetterti Di svegliarti Istantaneamente In caso di pericolo E di Comunque Recuperare Un quantitativo Di energie Pari a una notte Di riposo Con anche Pochissime ore Di sonno Grazie È molto Molto interessante Sarà sicuramente Utile Prendo La boccetta Non so Se mi stai Semplicemente Sviolinando Oppure se Il tuo interesse Sia Sincero E la cosa Mi Incuriosisce Perché La incuriosisce Padroncino Perché Solitamente Nessuno Sembra Essere Minimamente Interessato A quello Che faccio A quello Che potrei Fare Perché Io non Sono Uno dei Bifolchi Normalmente Vi circonda Ehi cookie Lo hai sentito Hai sentito Come li ha chiamati Si chiama Piscotto Il cuoco Beh Cosa sono Mandriani Bifolchi Aspetto a noi Noi abbiamo studiato Ti lancia La boccetta E ti lancia Indietro Cinque monete E fa Per questo Ci vuole Lo sconto Prende Prende Getta La La Sua gamella Fondamentalmente Al cuoco E Sghignazzandosela Della grossa Se ne va Bifolchi Aspetta Robert Forse ho qualcosa Altro di interessante A farti vedere E qua credo Lui si preoccupi Però Io mi Preocuperei Detta così Effettivamente C'era un attimo Da preoccuparsi Agnor Tu Entri Su Arrivi Fondamentalmente Che Robert Si è appena alzato E se ne sta Allontanando E Titus È alle sue spalle Che sta cercando Di attirare La sua attenzione Sta andando Verso la sua carovana Sta andando No In realtà Sta andando Dalla parte opposta Non sta andando Verso il suo carro Ok Allora Io mi Mi rendo conto Che la situazione Al momento Non posso Trarne nulla Di vantaggioso Però Dipende da quello Che volevi fare Se volevi interagire Con lui O parlare con lui In privato Questa potrebbe Non essere La soluzione migliore La situazione migliore Scusami Allora Intorno alla sua carovana Che cosa c'è C'è un punto In cui io mi posso Diciamo Tra virgolette Nascondere le ombre Nel senso Posso per quanto poco Occultare la mia presenza Rispetto agli altri Non nascondermi Tipo Tipo un ladro Nascondermi Nel senso In cui io possa Interagire con lui Senza Senza avere Senza Aver disturbo esterno Sì Sicuramente Come ti dicevo Il carro Di Robert È più distaccato Rispetto agli altri Diciamo che quasi C'è Un'ampia area Di terra di nessuno Attorno al carro Come se Sono tutti impilati Come se fossero Praticamente Incolonnati Sulla tangenziale I carri Ok E il carro di Robert È su una piazzola Risosta Ma Tra chilometri più in là Per fare un esempio Cioè È proprio isolato Da questo punto di vista Mi porto Allora Io Torno in prossimità Del carro E aspetto che Aspetto che Robert Venga 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 Su il carro Torni fondamentalmente Per coricarsi O simile Perché torni verso il carro Ok D'accordo Resti lì E attendi E Resti lì E ti metti in attesa Trovi un punto Dove puoi stare Fondamentalmente Anche seduto Abbastanza comodo C'è un Ed è Distaccato Nessuno sembra prestarti Particolarmente Attenzione O essere Alla Alla Tua ricerca Farley Nel frattempo Le Attenzioni Tu stai Intrattenendoti In conversazione Con Loralin La figlia di mezzo Che si è proprio seduta Vedendo che Ivy Si è allontanata Dal Zona dove Stavate entrambi Cenando E Fondamentalmente Confrontandovi Su quante Ne avevate prese Il giorno stesso Vedendo Ivy Che si è allontanata Per parlare con Caroline Vedendo che Nessuno si avvicinava In maniera particolare A te Si è proprio venuta E ti si è seduta Di fianco E Stai intrattenendoti In conversazione Con lei Caroline Ha i capelli Castani Sul castano Aramato I capelli Invece Loralin Invece Ha i capelli Che sono Corvini Più corti Arrivano alle spalle Sempre Ben curati Come la sorella Diciamo che lei Mentre la sorella È più Ragazza Di Ragazza D'azione Ragazza Di campagna Ragazza Di Ragazza Di stalla Proprio In un certo senso Lei è più Quasi più Educata Ti sembra anche Più colta Nel senso che Ha passato Probabilmente Più tempo Sui libri O Più tempo Dentro in casa Che non a correre Dietro Ai Cavalli Sai anche Che è la contabile Quindi Quella che Tiene E anche una Delle due Amministratrici Proprio Dell'azienda Di famiglia Assieme alla madre E che dalla madre Ha preso L'istinto Per gli affari Dalla madre E la testardaggine Di non mollare Dal padre Quindi questo Oltre al fatto Che è anche Beh Per una ragazza Di campagna Piuttosto Ben messa Dal punto di vista Finanziario Perché Stiamo parlando Di una Un'azienda Agricola Che ha Più di 200 Capi di bestiame Svariati Ettari Di terreno E che Ha Un 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 certo Quantitativo Di introiti Quindi questo Te la rende Oltre al fatto Che è anche Attraente Non appariscente Come la sorella Ma sicuramente Attraente Questo Te la rende Particolarmente Interessante Sotto più Punti di vista Ok Perfetto Vabbè Che dire Ragazza di style Con quello Che sta girando In chat Adesso Prima Scusa Un attimo Stiamo Virando Fortemente Sull'hard In chat Piaga Molto bene Vuol dire Che Vuol dire Che Vuol dire Che la chat Sta funzionando Esattamente Come deve Funzionare Io ragazzi La chat Di twitch Non la sto Guardando Quindi sfogatevi Pure Fate quello Che dovete Per fortuna Non voglio Neanche mettermi A guardarla Perché proprio Altrimenti È la situazione Sì Sto cercando Di mantenere I toni Il più Quieti possibile E facciamo Fatica Te lo giuro Immagino Che facciate Fatica Io sto guardando Le vostre facce Le schede I miei appunti Quindi Sorry ragazzi Mi spiace Detto questo Che cosa fai Io domando Signorina Loreline Lei pensa Loreline Scusami Loreline Cazzo Neanche il nome Lei pensa Che bella figura Sono già partito Malissimo Ehi Ehi Lei Mi scusi Ciao Carla Mi chiamo Lucia Chi è Carla Ok Allora Ti farò Dimenticare Pietro Chi è Pietro Ecco Vedi L'hai già Dimenticato Ma soprattutto Perché Pietro Chi cazzo è Pietro Che di Allora Secondo lei Sarebbe possibile Poter intavolare Una piccola proposta A vostro padre Perché In fin dei conti Guardatemi Ho rischiato la vita L'abbiamo rischiata Tutti quelli Del mio gruppo E Magari Visto che Voi siete La contabile Non lo so Se ci potesse Magari Spettare Un piccolo bonus Una piccola gratifica Per Per quello Che è successo Oggi Vabbè Sto zitto Vabbè Su questo Non dovete Assolutamente Preoccuparvi Mister Farley Dopotutto Una situazione Di questo tipo Non era prevista Dal contratto Che avete stipulato Di conseguenza Abbiamo già Incluso All'interno Della vostra paga Un aumento Del 10% Per il salvataggio Del Per il salvataggio Pondamentalmente Di quello Che avrebbero potuto Essere Gli danni Estremamente Maggiori Ai beni Della Della mia famiglia Avrei voluto Poter raggiungerli Più Personalmente Ho ritenuto Estremamente Coraggioso E estremamente Affascinante Quello che siete Riusciti a fare Oggi Ma Fino a quando Non avremo Un maggiore Dettaglio Sugli introiti Che riceveremo Durante La vendita Del bestiame Al festival E alla fiera Purtroppo Non possiamo Permetterci Di avere Ulteriori Riuscite Ma se Foste interessati A riaccompagnarci Durante il viaggio Ma sei sicuri Che vale Di origine Provese No ma neanche Di fronte La gnagna Capito Si dimentica Dei soldi Ma con i soldi Sai quanta gnagna Piove dal cielo A un certo punto Perché mi devo Accontentare Di una Non stai scherzando La vuole farsi pagare Esatto Parli Per la serie Ma scusami Ci provo Mi faccio pagare Poi magari Me la da pure Cioè meglio di così Cristo santo Non l'ho neanche dovuta pagare io Sono stato pagato io Per la serie Col forziere Sulla via occidentale Andiamo a comandare Molto bene Sì no Immagino di certo Che La situazione Richiederà Di dover a vedere Insomma come Ti appoggia la mano Sul braccio E ti fa Sul serio Se avessi potuto Avrei Veramente Desiderato Darvi un Compenso più elevato Avete salvato La mia vita Quella dei miei genitori E Buona parte di quello Per cui abbiamo lavorato In tutti questi anni Davvero ci sono pochi modi Con cui potremmo Riuscire a Ringraziare Potremmo riuscire mai A ripagarvi Del vostro Del vostro Valoroso intervento Di oggi Oh ma sono sicuro Signorina Che voi sicuramente Troverete il modo Arrossisce Fino alla punta Dei Cappelli Completamente Paonazza Vedi che Beve Beve un sorso Dell'acqua Che sta bevendo Fondamentalmente Proprio A gargarozzo Svuota il bicchiere Svuota il bicchiere Certo Beh vi ringrazio Delle vostre Cortesi parole E Perdonatemi Mi sembra di aver sentito Mia madre Che mi chiama Perdonatemi Mr. Farley Prende e se ne va La ferro per un polso La ferro per un polso Ammazza La ferro per un polso Mi dispiace Non volevo Mettervi in imbarazzo Fino a tal punto Vi prego Non Andatevene Per colpa Delle mie parole Rimanete Trovo estremamente Pacevole La vostra compagnia Si risiede Sempre un Abbastanza Sempre abbastanza Bordeaux in viso Ma diciamo che La respirazione E le pulsazioni Probabilmente sono tornate Allì sotto Del livello di guardia Non sta rischiando Di avere un infarto Lì fondamentalmente Non tanto perché La situazione Non tanto perché Tu sia un figo Della madonna Ma semplicemente Perché la situazione È qualcosa A cui non sembra Essere particolarmente Abituata Adesso ritorno A parlare un attimino Del più e del meno Come tipo Ma voi pensate Di fermarvi Quanto tempo Quanto pensate Che potrebbe volerci A vendere i capi Di bestiame E soprattutto Intendete fare La stessa strada Per il ritorno Non vi sembra Troppo pericolosa Ma ricominci Con un attimo Di conversazione Parlando del più E del meno Non ho tolto La mia mano Dal suo polso Lo so che non l'hai tolto E lei non ti ha detto Di toglierla Fondamentalmente Non ha fatto il gesto Di allontanarla Mentre siete lì Discutete Noti Allora Le cose che noti Sono Diciamo che Passa così Tra una cosa e l'altra Passate Due ore Allegramente A chiacchierare Ok Le cose che noti Sono Uno È estremamente sveglia Ma proprio Tanto sveglia Due Nonostante Ha un grandissimo Istinto Dal punto di vista Finanziario Ti parla di Sviluppi Ti parla di Espansione Ti parla di Con termini Anche Di natura economica Finanziaria Con le quali Tu non sei Estremamente Con i quali Tu non ti trovi Estremamente a tuo agio E sui quali Non sei estremamente Ferrato Al tempo stesso Però riesci A spiegarti i concetti In maniera tale Che li riesci A rapportare A cose con cui sei Più pratico Allo stesso tempo Riesci anche tu Con la tua Visione Un po' Più Diciamo Cupa oscura E corrotta Di quella che è La realtà All'esterno A darle Qualche consiglio Qualche suggerimento Soprattutto per quanto riguarda La sicurezza Degli investimenti I sistemi di sicurezza E utilizzando La tua esperienza Come Approvvigionatore Di finanze E procacciatore Di affari Per così dire Riesci a darle Qualche consiglio Con il quale Noti che Il suo interesse Nei tuoi confronti Va fondamentalmente Ad aumentare Torniamo un secondo A Titus E alla tua interazione Con Robert Che cosa Cerchi di fermarlo Per fargli vedere Qualcos'altro Di volta Comincio a Disfare Il La benda Intorno alla mano Ok Faccio vedere Il palmo Mostrandoglielo Con la mano Verso l'alto Gli mostri Il palmo E lui fa E che cosa Dovrei vedere Io guardo Il mio palmo Non c'è più La bruciatura No no È ancora lì Oh no Non vi dice niente Il palmo Della vostra mano Questo simbolo Non lo vedete Marchio di Exorius Mi state prendendo In giro? Se non vi è Se non vi è ancora chiaro Non mi piace Essere preso in giro Non mi piace La gente che si porta Via il mio tempo Scusatevi Non volevo Mancarvi di rispetto E Accomodatevi pure Non vi tratterrò Oltre Beh Vorrei vedere anche Come mi potreste trattenere Dopotutto siete Semplicemente Un impiegato Della mia famiglia Oh Dimmi un po' Cookie Ma Secondo te Questi Dove li trova Dove li trova Papà E dopo Dan Si permette di dare Dei bifolchi Alla gente Qui attorno Siete un cialtrone Scusatemi ancora Prende e si allontana Borbottando Io Mi fisso la mano Comincio a A tastarla Au 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 Fa male tastare la mano Il dito Il dito che va a toccare la macchia Resta umido Di Liquido rosso Si E sangue E tuo E controllo La La benda E bagnata Si La benda è bagnata Ma semplicemente umida Come se ci fosse solo uno strato Praticamente Come se avessi Una Una piccola bolla Di sangue In perfetto equilibrio Che riempie il simbolo Di Exorius E basta Provo a pulirla Con la benda Pulisci La bolla si riforma Immediatamente Si cancella E si riforma Ti ribendo la mano E Comincio ad essere seriamente Preoccupato La cosa Torno alla festa Facendo finta di nulla Fammi anche un tiro Su Declamare Conoscenze O sull'intelligenza In questo caso Intelligenza Provo a usare Uno dei miei libri No In questo caso No Non posso In questo caso No Devo mettere il veto Sull'usare il libro Va benissimo La tiriamo Declamare Conoscenze Gabà Sei estremamente Preoccupato Da questa cosa E Fondamentalmente Non hai la più Pallida idea Di cosa succede Inizia A agitarti Pesantemente Anche perché È La prima volta Che ti capita Che Una delle tue Profezie O comunque Una delle visioni Che ti è stata fornita Da La Dama delle ombre Non si arriva La totale E Prenda il panico Torno Velocemente Verso La zona Della festa In cerca Dei miei compiagni Di viaggio Prima che trovo Lo brinco E A interagirci Parla E preparati Ad avere In questo momento La serata Rovinata Fondamentalmente Sei l'unico Che è ancora vicino Al focolare Sorry Quindi la Parentesi Di 50 sfumature Di gioco di ruolo È finita Ok Andiamo a chiudere La parentesi Perché La chat Se non è pazzesce Ma perché Vado in bianco Anche nei giochi di ruolo E caro mio È incredibile Ni Ho detto soltanto Farley Preparati Vedi tu Poi bisogna vedere Dalla situazione Io non faccio Assolutamente Nient'altro Non metterò limite A questa cosa Ignore Passano circa Una ventina di minuti E senti Robert Che rientra Ah Titus L'ultima cosa Che senti Prima di allontanarti È Un borbottio Fondamentalmente Da parte Del cuoco Alle tue spalle Che fa Certa gente Non ha proprio Nessun Rispetto Per i suoi datori Di lavoro Certo I suoi lavori I lavori Io orarò questa cosa O altro da fare In questo momento O altri problemi Ben più gravi Ignore Aspetti circa Una ventina di minuti Come ti dicevo E poi senti Robert Che torna indietro Ok Dovedi avvicinarsi Non furtivo Ma semplicemente Ignaro Della tua presenza Verso il suo carro Allora Li cammino incontro E cerco Mentre cammino Verso di lui Di incrociare il suo sguardo Ti vede Ti nota E fa un cenno Con la testa È la prima volta E da quello che ricordi È il primo momento In cui Sembra avere Un minimo di interazione Con qualcuno Lancia il pianotista Fissi istantaneamente Il tuo sguardo Su lui E Robert Si blocca Gli occhi Dardeggiano Ancora in giro Ma non è in grado Di Non sembra essere Più in grado Si è bloccato Praticamente Con la gamba A mezz'aria È in una posizione In cui normalmente Dovrebbe cadere O in avanti O all'indietro Ma in questo caso Sembra essere sorretto Da una tensione Che non è naturale Che cosa fai? Scusa Ma ci speravo troppo Allora A quel punto Camminando Io posso muovermi Perché avendo fatto 11 Posso muovermi Tranquillamente È completamente bloccato Immobile E non può Non può muoversi Può ancora interagire Con te Ma non può muoversi Ma io posso Muovermi tranquillamente Giusto? Tu sì Non ti ho mai chiesto Ma io nel mio volere Posso sbloccare Una situazione del genere? Se mi dici Se mi dici Voglio interrompere l'effetto L'effetto si interrompe Ah ok Perfetto Sì Direi proprio di sì Allora Sarebbe come dire Non so Una volta che ho lanciato L'intantesimo luce Non so come spegnere la luce Non ha il minimo senso Ok perfetto Potrebbe anche Arrivare a questo Quello sarebbe altro Erinor sarebbe più semplice Erinor Esatto Con Erinor potrei anche dire Non abbiamo ancora conosciuto Non lo so Però vedremo Non datevi spoiler Comunque Mi avvicino verso Robert E gli dico Fammi sentire ragazzino Tu Non sei nessuno Tu non puoi nulla Contro di me E contro la mia magia Quello che voglio adesso È vedere cosa hai dentro Il tuo carro Di arcano Questo è solo un minimo Del mio potere Se proverai solo A fregarmi O a metterti contro di me La mia ira Sarà molto più grande Anche perché Se ho fatto quello che ho fatto Con uno squalo di terra Immagina cosa potrei fare con te Fammi un tiro sul parlamentare Quindi sul carisma Ma che cazzo Un secondo momento Ma cazzo Il mio cazzo Deve essere Ma non importa Cazzo Devi intimorirlo Gli hai tirato Un petto sotto il naso Praticamente Ti metti a ridere Il sollettico ai peli Delle ascelle Praticamente Questo è stato il tuo Intervento Beh però Un bonus perché è bloccato Cazzo Avrà un minimo di paura Cristo È bloccato La paura Può sicuramente esserci Ok E c'è Per qualche istante Mentre sente il tuo discorso Al tempo stesso Poco dopo La paura nei suoi occhi Viene sostituita Da una Profonda Un profondo risentimento Che sembra trasformarsi In furia Che sembra trasformarsi Proprio in un odio Quocente nei tuoi confronti Non sei del tutto sicuro Che quest'odio È un odio Che sorge Troppo rapidamente Che è troppo intenso Per La minima interazione Che avete appena avuto Probabilmente Sei andato Con il tuo discorso Senza saperlo A toccare Dei tasti dolenti Della Sua personalità E questo Lo rende Al momento Estremamente Poco amichevole Anzi Estremamente Ostile Nei tuoi confronti Non caverai Un ragno dal buco Da Con qualsiasi tipo Di interazione Nei suoi confronti In questo momento L'unica cosa che vuole È Probabilmente Essere liberato E Non appena lo sarà Di Cercherà Sicuramente Di Fartela pagare In qualche modo Per il modo In cui ti sei permesso Di trattarlo Io Per darti Una lezione Io Capisco Tutto questo No Questa cosa Diciamo che Sono Sì Hai un livello Di intelligenza Sufficiente Da permetterti Di capirlo In maniera Estremamente Rapida Sai di aver fatto Il passo più lungo Della gamba E che non è andato A buon fine Quindi Probabilmente Hai fatto una cazzata E rischi E rischi di pagarla Questa è sicuramente La cosa Che capisci A livello di base Il resto Diciamo che lo puoi Elaborare Nel giro di 10-15 minuti Ripensandoci un attimo In base anche a quello Che decidi di fare adesso Perché La situazione è questa E Sì Sei lì che stai decidendo Che cosa fare Sei lì che stai decidendo Che cosa fare Quando Alle tue spalle Senti una voce Beh Che sta succedendo qui E' l'uomo Quello dei griffin Quello che ha sia le gambe Che le braccia di legno No Non è Scemus Ma è Mr. Lancaster Ma rompo l'incantesimo Si avvicina Si avvicina Alla situazione Con Uno sguardo Piuttosto cupo Con uno sguardo Piuttosto cupo In volto Con un'espressione Piuttosto cupo In volto E uno sguardo Molto intenso Valuta un attimo La situazione Hai bene Figliano Rivolto ovviamente A suo figlio Non a te Aignor Non ho bisogno Del tuo aiuto Papà Posso arrangiarmi da sola Aignor Vero Mi ricorderò Della tua cortesia Ora se permetti Sono piuttosto stanco Vorrei andare a dormire Faresti bene A farlo anche tu Prende Entra nel carro E sbatte la porta E sente un rumore Di lucchetti Che vengono chiusi Dall'interno Mr. Lancaster Ti guarda E fa E' un bravo ragazzo C'è stardo Ma sveglio Molto adulto Per la sua età E non mi piace Che i miei dipendenti Si prendano Il gioco di lui Sono stato chiaro Lo guarda con un piccolo sorriso Annuisco Eccellente Buonanotte Mastro Epo E prende E con Passo marziale Si allontana Mi giro Verso la carovana E a voce Abbastanza sottenuta Dico Buonanotte a Robert E me ne vado Prendi E te ne vai Ok Titus e Farley Farley Tu sei lì Che stai Ti stai ancora Intrattenendo Con l'oraline E diciamo Che la La diffidenza Iniziale Della ragazza E' letteralmente Svanita Nel nulla Siete sul Rapporto Di Praticamente Ci conosciamo Da un bel pezzo Siete arrivati Al rapporto Di totale Familiaria E sì Sei convinto Che l'interesse Della ragazza Nei tuoi confronti Sia Assolutamente Chiaro Lampante Evidente E Sincero In questo caso Titus Arrivi vicino Al focolare Che ormai Si è Praticamente Svuotato Della buona parte Delle persone Visto che la partenza È all'alba Il giorno dopo E Ti ritrovi E L'unico Del tuo gruppo Che vedi ancora Attorno al focolare È Farley Che sembra essere Impegnato In una conversazione Con La figlia minore Di Mr. Lancaster Con Laura Lynn Se non ricordi male Che cosa fai Parley Dobbiamo parlare Ma cazzo Oh mi scusi Signorina Sei venuto di soprassalto Non ti ho sentito Mi sono spaventato Dobbiamo parlare Immediatamente Eh Sì Certo Va bene Vabbè Può essere anche Privato Ora Privato Ora Va bene Signorina Portate pazienza Mi scusi Si è fatta anche Una certa ora Per cui Le auguro La buonanotte Non mi ero neppure Accorta Buonanotte Dobbiamo andare Ora Con permesso E così che si passò Da 50 sfumature Di gioco di ruolo A mai una gioia Creek I don't want to wait Dio santissimo E prima c'erano i draghi Poi ci sono Una banda Cazzuta di orchi E dopo Il mio compagno Di avventura Fa E allora Fa finacidito E allora Devo parlarti Urgentemente Sai che sei doso Di tutto questo Eh lo so C'è proprio il più sfigato Di tutto Il termine Il termine tecnico In questo caso Mio caro Mr. Delrick È Cock block E tu sei appena stato Cock bloccato Cock bloccato Decisamente sì Sei appena stato Minchia bloccato Vabbè Ma Sta bene Lasciamola cuocere un pochino Nel suo brodo Adesso deve Di sì dai Di sicuro Per favore Va bene Seguo Seguo Titus Ok Comincio a disfare La La benda Noti che Titus Ha una benda sulla mano Che prima non aveva Ma ovviamente Siete tutti un po' più vendati Rispetto a come eravate Il giorno Alla mattina Io sono pieno Sono la mummia Forse Cosa vedi Su questa mano Che cosa vedo Vedi la mano Di Titus Che faccio Ci batto il 5 Non lo so Che cosa vedo Vedo la tua benda Guardi la mano Lo guardi in faccia Guardi la mano Scusami un attimo Te la sei rotta Non vedi questo simbolo Sì è una linea Della vita molto lunga Ma questo cosa significa Sa che non ho Una vita così lunga Non vedi il simbolo Di Exorius Oddio è successo Lo sapevo Lo sapevo È successo Senti di scherzare Idiota Perché Cosa sta succedendo Ho trovato qualcos'altro Nella grotta E Si è distrutto Si è fuso Con la mia mano Io lo vedo Perché voi Non lo vedete Ma che cosa Era un cofanetto D'argento Con una pietra rossa Sopra Che ha lasciato Il simbolo Di Exorius Sulla mano Ma dove Nel Dentro la bestiaccia Nella grotta Della bestiaccia Nella grotta Della bestiaccia Esatto Un forziere Con una gemma rossa Non era un forziere Era tipo Un portagioio Una scatoletta D'argento E che cosa c'era Dentro Non lo so Si è distrutta Ha cominciato a scaldarsi L'avevo nello zaino L'ho tirata fuori E la tenevo con la mano sinistra E la pietra Che come fusa Sulla mia mano Però tu non vedi niente Tu dici Non vedere niente No Tu sei certo Di non aver bevuto abbastanza Stasera Io non ho bevuto niente Stasera Ok Appurato questo Cosa vedi esattamente Che cosa c'è Volo di Exorius Tracciato col mio sangue Provo a toccare il suo palmo A vedere se per caso C'è un qualche cosa In rilievo Se sento un qualche cosa Fammi un tiro su di Scherner In realtà Che si fa con Sulla saggezza Un bel più zero No sbagliavo La tua vita non è così lunga Già Ok Stai per toccare La mano di Titus Quando Senti Un urlo Provenire dalla tua sinistra Mi giro di scala Un urlo di dolore Provenire dalla sede di sinistra Vicino alla zona Dove sono state messe Al pascolo Le mucche per la notte C'è Hai sentito Un uomo urlare Dalla tua sinistra Mi giro di scatto E Il mio primo istinto È quello di scattare Verso la faretra E le frecce Ti hai con te comunque Sì La faretra E le frecce E l'arco Ti hai con te Sì Ok Titus Senti anche tu Questo urlo Estraggo la mazza Immediatamente Ok Chiudendo la mano E ritraendola Va bene Vado un secondo Da Ivy Che Ha passato Fondamentalmente Buona parte Della serata A chiacchierare Come dicevamo Con Caroline Fino a quando Non vi siete salutate Da praticamente Quasi nuove amiche Del cuore Ok E ti sei ritirata Nella tua tenda Assieme a Aika Per trascorrere la notte E cercare di Recuperare un attimo Le energie Dopo la giornata Pesantissima di oggi Ti sei addormentata Praticamente subito Grazie anche All'autopasto E alla Buona innaffiatura Prima di birra E poi Di qualcosa Di un po' più consistente Che Caroline È riuscita a raggranellare Andando fondamentalmente A rubarla Dalle riserve Del padre Ok Questo buon Whisky di malto Fatto In uno dei Ranch vicini Che prima Era una bottiglia Adesso Ne è rimasta Praticamente mezza In due Quindi ci avete dato Dentro Raccontando storie In modo Estremamente Estremamente Professionale Per così dire Ti sei Addormentata Quasi subito Il sonno Non è stato Però Dei migliori Probabilmente Per il Quattilativo Di alcol Bevuto O probabilmente Anche per la Tensione Lo spavento Dell'adrenalina Della giornata Di oggi La tua nottata È stata Il tuo Non la tua nottata Il tuo riposo È stato Estremamente Disturbato Da una serie Di incubi Che più che incubi Sono ricordi Ricordi di quello Che è successo Al villaggio Prima che partissi La grande festa Per la fine Dell'inverno La gente Che era felice Il grande albero Al centro Del villaggio Decorato Con I lumi Decorato Con I premi Perché Chiunque fosse Abbastanza abile Potesse mettersi A scalarlo E cercare Di recuperare I premi E il grande Desiderio Di tutti Di dimostrare All'inverno Come anche Quest'anno Non fosse riuscito A farvi fuori E non ci sarebbe Riuscito Probabilmente Neppure l'anno Successivo I canti Le danze La piccola Daga Che avevi preparato Per La tua Sorellina Più piccola E che Le avresti dato Come regalo Visto che avrebbe Finalmente raggiunto L'età sufficiente Per poter Accompagnare I cacciatori Lungo Le spedizioni Per aiutarli A raccogliere Le pelli E a squagliare Gli animali E Tutti questi Elementi Di Estremamente Piacevoli Della tua memoria Che vengono Spazzati via A un certo punto Dalle urla Dalle fiamme Che invece che Levarsi dai Braceri Della festa Si levano Dalle capanne Praticamente Ridotte in cenere Dal rumore Dell'agente E dei tuoi amici Dei tuoi familiari Delle persone Con la quale Sei cresciuta Quasi Dilaniati E fatti a pezzi Da questa creatura Che si muoveva Come un'ombra Questa creatura Che è dotata Di una ferocia Di una velocità E di una Volontà Di distruggere Come mai Mai avresti pensato Di vedere in vita tua Che Si avvicina All'altro elemento Fondamentale Attorno al quale Era stato costruito Il villaggio Il grande Menhir Il grande Simbolo Del potere Degli dèi Con il suo Cuore pulsante Di luce Argentata Che Con quasi Senza neppure Fare sforzo Infrange Il menhir E ne estrae Il cuore pulsante Ridendo A scorciagola E poi si volta Nella tua direzione Con questi Occhi illuminati Da una fiamma Arcana Stracolma Di potere E di desiderio Di distruzione Morte E follia Ti svegli Di soprassalto Con questi occhi Che ti stanno Ancora Con l'immagine Di questi occhi Ancora impressa A fuoco Nella Nella mente E il tuo risveglio È dovuto Al fatto Che Aika Ti sta Stratonando La manica Ti Si scuoti Per un secondo E ti sembra Di sentire In lontananza Come un suono Di collutazione E L'urlo Di un uomo Beh Esco immediatamente Dalla tenda E Mi Dirigo Il più velocemente Possibile Verso La zona Da cui Sento provenire E le urla Insomma Insieme Ad Aika Ok Corri verso Quella direzione Aiklor Tu sei da tutt'altra Parte del campo Quindi fondamentalmente Non senti Assolutamente nulla Al momento A meno che tu Non sia ancora sveglio Stai dormendo Dalla grossa No Io non sto Dormendo Quello no Perché sto Pensando Quello che è successo Con Robert Ok Perfetto D'accordo Però Non sento nulla Però No Se sei No Sei ancora sveglio Quindi inizi a sentire Del movimento All'interno del campo Che è strano Dato l'orario Ci stiamo avvicinando Tra una cosa All'altro Circa alla mezzanotte La luna è alta Senti bocciare C'è una certa agitazione Non riesci bene Non riesci bene a capire Non riesci bene a capire che cosa stia succedendo Però È tutto sfostato Alla tua destra Rispetto alla tua posizione Cerco con gli occhi I miei compagni Non li vedi In questo momento Sei un po' distanziato Rispetto a loro E le loro tende Vedi solo Vedi la tenda di Ivy Che sembra essere vuota Ma c'è un Che sembra essere vuota Ma Ti sembrava di averla vista Quando ti sei riavvicinato Prima Dopo essere Dopo la conversazione Che hai avuto con Robert Ti sembrava che la tenda fosse occupata Al momento invece è vuota Quelle di Titus E Farley Invece Sono Erano vuote prima E sono vuote tuttora Mi avvicino Verso la zona di Di caos Ok Farley Titus Voi iniziate Cosa fate? Avete sentito l'urlo? Io mi muovo in direzione dell'urlo Arco in mano E freccia In 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 coccata Ma non tesa Corro Anch'io In direzione dell'urlo Ok Corretto La luce della luna Per fortuna Illumina a sufficienza Questa zona Che è più buia Del campo Da permettervi di Vedere Senza intralciarvi Il terreno è anche abbastanza pianeggiante Quindi non avete nessun problema A muovervi Vi muovete immagino In maniera Abbastanza furtiva O vi muovete Correndo A A spronbattuto Beh allora Io ti devo domandare una cosa Esattamente Con Il mio Potere Stai lontano dalla luce Yes Posso muovermi anche O devo stare Per fortuna O devo stare immobile No È solo quando stai immobile Solo quando stai immobile Quando stai immobile Fondamentalmente sei nell'ombra Fondamentalmente sei invisibile Allora io cerco Di muovermi Il più velocemente possibile Che mi consente Cioè un'andatura Abbastanza sostenuta Ma Diciamo però Voglio cercare di muovermi Più furtivamente possibile No Scusami Ho detto una cavolata Quando ti nascondi nell'ombra O nell'oscurità Non puoi essere individuato Con metodi normali Quindi se mi dici Che ti stai Nascondendo Se quello che mi dici È Mi sto nascondendo A chiunque Cerchi A chiunque Mi stia cercando O in modo Da non essere visto Da nessuno Allora sì Considero che fondamentalmente Non puoi essere visto Perché sei nell'ombra Allora ok Cerco di muovermi In questo modo Ok Visto che è notte Ci sono Spugli Arbusti Altre cose Tito Sa un certo momento Noti che Farley È scomparso Ma Non do peso Alla cosa Perché Abitudine Ormai Che lui Scompagna Effettivamente sì È una cosa Che hai già visto fare Sai che Farley Si muove Molto meglio Nell'ombra Rispetto a te Assolutamente Io suono Come una campana Praticamente Quindi non do Molto peso Al nascondermi Mi muovo Abbastanza velocemente Verso la zona Di pericolo Però Guardandomi bene Attorno Quindi non è una corsa Forsennata Per di fiato Ok Farley Fammi un tiro Per favore Su evitare il pericolo Sulla destrezza Sette Ok Inizi a correre Utilizzando la tua Maggiore agilità E la tua Grazie a quasi felina Inizi a correre Tra un cespuglio E l'altro Lasciandoti Titus alle spalle Distanziandolo Nonostante Il suo buon passo Grazie al fatto Che tu non indossi Un'armatura così pesante E sei Molto più agile Di lui Ti muovi Come se dovessi andare In una vasca aperta Tenendoti sulla distante Tenendoti Sulla sinistra Rispetto alla posizione Di Titus E cerchi di raggiungere Un'altura Che è lì E dovrebbe darti Una visuale Migliore Su quella che è La zona Che è stata Scelta Come pascolo Notturno E come ricovero Notturno Per la mandria Arrivi in cima A questa altura Ti getti a terra E guardi Di fronte a te A circa Una cinquantina Di metri Di distanza Più o meno Grazie alla luce Della luna Riesci a Intravedere Due figure Una è Riversa Da terra Immobile L'altra Invece China Sopra La figura Riversa Da terra È una figura Molto Molto Larga È più grande Rispetto Almeno dalla distanza Che vedi Sembra più massiccia Rispetto A un uomo A un umano Sembra estremamente Imponente Ed è solo La posizione China Che te la fa Vedere Come se fosse Invece Di dimensioni Pressoché Normali Non riesci A definirne bene I tratti Almeno fino a quando Questa figura Non si gira Nella tua Direzione Quello che riesci A vedere Sono fondamentalmente Grazie A causa Delle ombre Notturne Nonostante La luce Della luna Vedi una figura Che sembra avere Delle protuberanze Simili a corna Immense Sulla testa Che sembra essere Estremamente affilate E anche Un po' Da quello che ti sembra Di vedere Ti sembra quasi Guccicare Probabilmente Perché bagnate O simile E E senti come Un suono Di Un Quello che sembra Essere quasi Un ringhio Fondamentalmente Molto basso E non un ringhio Di pericolo Ma un ringhio Quasi Di rabbia E ti rendi conto Di essere Sottovento DM Che cosa fai DM Sì E' fatto tardi Sì Stavo pensando La stessa cosa Lasciamo un po' Di suspense Un po' Di suspense Per il prossimo episodio Ok Per me possiamo Più Da qui Che se non l'ha capito Nessuno Siamo nella merda Un'altra volta Comunque Pano Prima c'era la mucca Adesso c'è il toro Mi stava puntando Scusate che mi sono perso Stava puntando a me Perché ha sentito Il mio odore Sei sottovento Ma d'altronde Mi ingrifo Poco prima E' ovvio che poi Non è che sono profumato Cioè nel senso Il tempo di lavare Toccarvi la mano Ti fa questo effetto Oltretutto Sì vero Ecco Ragazzi Morirà questa volta Questa è un'ottima notizia Potremmo accettare Delle scommesse Secondo me Facciamo i soldi Mi piace perdere è facile Esatto Anche perché voglio dire Ragazzi Io ho Beccato già Undici punti ferita Di conseguenza Ne ho diciannove Totali Quanti punti ferita ho? Come no? È il contrario fra? Come? Parti da diciannove Scendi Eh va bene Ma ne ho beccati Ne ho beccati undici Quindi ne ho Otto Ne hai beccati undici Sì L'ora di mettere otto qui Sì sì Beh Ah ok Devo mettere il contrario Scusate Io mi sto aggiornando Intanto sulla chat Di Twitch Ragazzi posso dire A tutti i nostri visualizzatori Che vi voglio bene Sì è vero Siete geniali ragazzi Io ci sono stati momenti Che sono stato veramente In difficoltà Stavamo pisciandoci addosso State facendo il più spettacolo di noi Ragazzi Veramente No veramente Sono commosso La mia figura È il mio ignor Cioè basta Vive nella storia adesso Basta C'è una domanda per te GM C'è una domanda per me Dica 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 La domanda è malposta Forse volevi chiedere Che ore sono Che ore sono Sono le 23 e 32 Secondo il mio La risposta è dentro di te Ma è Le cure portate a farle Gli hanno restituito Qualche punto salute Sì effettivamente Però può essere passato Troppo poco tempo Domanda interessante Domanda molto interessante Non abbiamo ancora riposato In realtà Assolutissimamente no Perché nessuno di voi Ha ancora riposato Quindi siamo nella merda Quindi avendo 8 punti ferita Se questo mi starnutisce addosso Praticamente io sono Passo allegriamente all'altro Guarda che io Ma gli stessi tu hai punti ferita Ah sì Che bello La metà del gruppo È esattamente nella merda Ok No Il problema Il problema di Dungeon World È che E questo è davvero un grosso problema Per chiunque abbia mai giocato di ruolo Sono i punti ferita Che fondamentalmente Sono sempre pochi Tanto tanto pochi Che bello Bisogna diciamo che il combattimento Dovrebbe essere forse l'ultima chance Altra domanda al master Lo devi pensare Esatto Cialatani Cialatani e bifolchi Soprattutto Parola Hashtag della serata Bifolchi Ma no Io ho la pozione della luna Hashtag Esattamente Sei Sailor Moon Sappilo Se ce ne siamo accorti Solo noi Beh Prima Prima è partito Adesso devo Devo trovarlo Eh Il secondo Devo trovare Altra domanda Se ne sono accorti solo loro Ma non lo so Io credo Quello diverso per terra Può darsi se ne sia accorto È un ogre il mostro Non ne ho la minima idea Non lo sapremo fino alla prossima puntata Fino alla prossima puntata Non si deve sapere E adesso dovrete aspettare una settimana Una settimana Siamo noi i primi che ci mangiamo le dita Perché è ovvio che A noi per primi piacerebbe andare avanti Però La vita ahimè è questa ragazzuoli Se avete altre domande Vi pregherei Adesso noi O questa sera O meglio domani mattina Questo stesso video Verrà pubblicato anche sul canale di youtube Sul mio canale di youtube Se avete domande Nei commenti Mi raccomando lasciatele Noi quanto prima Vi risponderemo O per iscritto O anche proprio con un video a parte Ok Io ringrazio tutti quanti voi Perché siete stati geniali Ero qua veramente Che stavo trattenendo le lacrime Dalle risate che stavo facendo Per i vostri commenti Anch'io Perché siete Anch'io Siete geniali Infatti come vedete Ho voluto metterli nel video Di modo tale che anche su youtube I vostri commenti rimangano Quindi vi prego di commentare sempre tanto Perché le vostre battute Rimangono in video E fanno spettacolo Tanto quanto lo fa il gioco Per cui Grazie davvero Scusi un attimo Cioè Sono stato una serie di battute Che ti giuro Io Mi mettevo le mani davanti Perché stavo ridendo Come un deficiente C'era Uno che C'era Davo Grau Si ha detto Bovino Powa Bovino Powa Bovino Powa Bovino Powa Assolutamente Arsul scrive I tipici seri problemi Che fanno sclamare Un vacca boy Cioè Ragazzi Non sto scherzando Mi ha mandato uno screen Mi ha mandato Aenor Mi ha mandato uno screen Ci ha mandato uno screen In partita Eccolo qua D'accordo Della fotografia Della chat Quindi veramente Alessandro Bernari fa Reame Bovino A me Le mucche fanno mu Ma una fa Aenor Allora Ragazzi Siete dei geni Veramente ragazzi Non so Non so cosa dire Non so cosa dire No Non pensavamo veramente Che questo Questo genere Potesse interessare A molti di voi Potesse intrippare Così tanto Per cui davvero Vi ringraziamo tantissimo Siamo contentissimi Che vi stia piacendo Per noi è una grandissima soddisfazione Per cui Siamo veramente Stimolati a continuare Grazie Non fa l'alchemico Fa il pusher Sì no Lì Ce ne è stata una serie Che è stata molto interessante Mio Dio Ragazzi Per fortuna Io non mi sono messo a leggere Altrimenti sarebbe stato Esatto Hashtag Bifolchi Elenteer Hashtag Bifolchi Hashtag Bifolchi No no era già stato fatto prima Lo vogliamo Assolutissimamente In trend Su Twitter Ragazzi Non ho un tubo da fare Sì infatti Grazie di nuovo A tutti i signori Grazie a tutti E ci vediamo La prossima settimana Grazie a tutti In campagna Che figate Quasi lunedì Ciao Ciao Ciao